Buongiorno, siamo qui con un caffè latte, ora un latte macchiato, già non me lo ricordo più, un muffin alla mela, un panino, un panino un po' mangiato, un altro caffè latte e poi c'è Stefan. Cucu, ciao, sai che ti volevo chiedere oggi? Ti volevo chiedere due cose, buone feste, ti volevo chiedere se potevi fare gli auguri, fammelo chiedere, ti volevo chiedere se potevi fare gli auguri in italiano e in tedesco, ma ti volevo anche chiedere che leggi. Questo è un fumetto giapponese e anche un film, The Ring, ma il film vero, non la scopiazzatura americana. Questo è un fumetto. Questi sono due libri, perché sono due volumi, l'altro ce l'ho nella borsa, sono due libretti che io ho comprato qualche anno fa, qualche anno fa Stefan non sapeva ancora parlare l'ottare giapponese, adesso nel frattempo sì, e questo è il secondo. Sì. Ma ti posso dire una cosa? Come sempre la batteria mi lampeggia, la batteria fa blum, 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 e allora uno, due, tre vai con gli auguri. Auguri, buon Natale, buone feste, buon Capodanno, e buon Natale. E buon Natale. E buon Natale, buon Natale et vino un fritto che in un nuovo anno specifications. E buon Natale ? E buon Natale. landed attivo in un rezzo, lasciate siani, citate ste cose, fie tempo eengeven li fondi e pumence noi,le la belle буita e lei. Eles occupied di questo e a riposarci, perché siamo andati al DM a fare la spesa. Siamo andati un po' in giro, siamo andati anche da Oxfam. E anche buon appetito. Sì, buon appetito. Siamo andati oggi anche da Oxfam. E un buon pandoro. Un buon pandoro. Ah già, quello sì. Dobbiamo comprare un pandorino. Sì, va bene. Ciao. Ciao, salve, ciao.